Ci prende una posizione ufficiale da un punto di vista di giudizio politico sulla realizzazione di quell'impianto lì nella collina di Riceci. Ho sentito parlare tanti a sproposito e tanti con delle motivazioni giuste. Sicuramente noi come consiglio dietro una mozione che aveva presentato la consigliera Fernanda Sacchi, sindaca di Mercatello sul Metauro, ne abbiamo discusso insieme con il gruppo di maggioranza, l'abbiamo rielaborata e con questo esprimiamo il nostro dissenso alla realizzazione di una discarica lì. Ma allo stesso tempo la cosa più importante è che chiediamo alla regione di dare una giusta interpretazione delle distanze dei 500 o 2000 metri a secondo del rifiuto urbano o dei rifiuti speciali non tossici. Per cui è questo che noi oggi esprimiamo. Credo che sia dopo aver ascoltato i pareri di tutti, io già l'avevo espresso, sono stato ingiustamente, secondo me, accusato di non aver preso una posizione, ma io l'avevo preso proprio a un'intervista che mi aveva fatto Rossini TV. E circa 20 giorni fa, anche più, avevo detto che secondo me quello era un luogo sbagliato. Questa è la dimostrazione che quanto si vuole fare un qualcosa di così importante sul nostro territorio, perché quello che mi fa ridere è quanto sento dire diventiamo la pattumiera dell'Italia. No, noi produciamo 1.400.000 tonnellate di rifiuti come provincia di Pesolo, ne smaltiamo 200.000, sono le altre regioni o alcuni paesi esteri che si beccano 1.200.000 tonnellate dei nostri rifiuti. E se questi un domani decidessero di non prenderli più, il problema è notevole. Per cui bisogna affrontare seriamente il problema dei rifiuti, ma bisogna affrontarlo in maniera territoriale, in cui si coinvolgono tutti i comuni e si individua un'eventuale zona e su quella si va. E' certo che ci sono delle zone che possono essere non impattanti. Parlare di discarica già è una cosa difficile, però bisogna essere consapevoli che se dobbiamo individuare una zona bisogna individuarla e su quella bisogna lavorarci.